Buongiorno, ben trovati. Appuntamento di venerdì 7 aprile 2017 con Mattino Sera, nostra consueta Arsegna Stampa che apriamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi oggi in edicola, oggi si ricorda San Giovanni Battista. Apriamo con il centro le quattro edizioni, partiamo dall'edizione di Pescara, eccola qui, Pesca e Divieti, marineria in rivolta, si parla delle problematiche della marineria pescarese, oggi ci sarà un incontro sulla fossa di Pomo e intanto l'arta conferma acqua balneabile a Pescara. Poi vedete la fotonotizia che campeggia su tutte le edizioni del centro e anche sul messaggero e giornali nazionali nelle pagine interne, in questo caso sulla visita ieri a Sulmona del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il bimillenario del poeta. Parliamo di Ovidio, il poeta sulmonese, importante cerimonia ieri proprio nel Teatro Maria Caniglia alla presenza del Presidente della Repubblica, di tanti amministratori locali, tanti sindaci del comprensorio Peligno. Più tardi vedremo a tal proposito un servizio. E poi vediamo anche gli altri titoli. In alto, Carabinieri forestale, Abruzzo, 200 ricorsi al Tar contro l'accorpamento. E poi all'interno, nelle cronache, l'Aquila, otto anni dopo il terremoto, la via Crucis delle Mamme, ragazzi, dove siete? E poi a Pescara, in palestra con il Cortisone, è stato denunciato un giovane dai Carabinieri del NAS. Poi per quanto riguarda gli ospedali, i tagli degli ospedali, il parlamentare abruzzese del Partito Democratico Castricone va dall'assessore, incontra l'assessore alla Sanità Paolucci. In basso, Rigopiano, lo sfogo dei parenti, il comitato familiari vittime, dice si sta lucrando sul nostro dolore a tre mesi dalla tragedia. E poi a Montesilvano i vigili urbani si mobilitano per la piccola Noemi. Andiamo avanti, l'edizione di Chieti del quotidiano Il Centro. Menze e scuolabus, nuove tariffe, Chieti, costi differenziati in base all'ISE, più penalizzate le fasce medie. E poi all'interno Lanciano, mura la droga in casa, i cani la trovano. Poi Torino di Sangro, muore a 43 anni mentre corre sul lungomare. Poi in basso, a vasto, picchia la ex davanti ai figli, uno dei bambini chiede aiuto. Al 113 è stato arrestato un 35enne. Poi a San Salvo, per parlare di questa vicenda dolorosa di questa donna di 39 anni, Carla, fatale il freddo. Donna trovata alcuni giorni dopo la sua scomparsa, priva di vita nella zona di San Salvo. La verità arriverà dall'autopsia. Andiamo ancora avanti, siamo all'edizione di Teramo, del centro ospedale unico a Sant'Atto e Scontro. Brucchi deve restare nel capoluogo, dice il sindaco di Teramo, ma Mastro Mauro, sindaco di Giulianova, non ci sta. E poi ancora Giulianova, il comune torna a fare assunzioni, mentre l'Enel è pronta a riempire il lago di Campotosto dopo il sisma. Poi si parla ancora di maltempo e polemiche, di risarcimenti, risarcimenti ma non per tutti. L'ordinanza del governo lascia fuori gli agricoltori. E poi a Cellino, trovato fucile nell'auto, rubata, serviva per fare il colpo a Cellino Attanasio, sempre in provincia di Teramo. Siamo all'edizione dell'Aquila, del centro. Il titolo principale riguarda ovviamente il terremoto, l'anniversario che è stato celebrato ieri, proprio nella giornata del 6 aprile. Le mamme, ragazzi dove siete, il dolore non si placa, ma la città vuole guardare al futuro. E poi ancora l'Aquila, scuole sicure, petizione di 142 docenti. E poi in basso, questa notizia che arriva sempre, in questo caso, Trasacco in lutto. Abbiamo visto anche dalla pagina di Chieti, la prima pagina di Chieti del centro. Muore mentre fa footing. Questo uomo di 43 anni è accaduto a Torino di Sangro, ma era originario di Trasacco. Dunque Trasacco in lutto per la scomparsa di questo 43enne, che è stato colpito da un malore mentre stava facendo footing. E poi a San Demetrio dei Vestini, incidente nel cantiere, grave un operaio. Siamo alla prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Mattarella rincuora l'Abruzzo. Questa non è una giornata di evasione dalla realtà, detto il Presidente della Repubblica in visita a Sulmona. Il pensiero va al sisma del 6 aprile 2009 e alla tragedia di Rigopiano. E poi l'Aquila, scuola in ripresa, le ferite ancora aperte. Poi vedete ancora nella foto il Presidente della Repubblica salutato dai bambini delle scuole sulmonesi. Tenga a cuore questa terra i suoi giovani, questa la preghiera ieri sia del Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, sia del Sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, al Presidente della Repubblica. E poi anche sul messaggero ritroviamo la notizia di questo malore fatale che ha colpito un podista a Torino di Sangro. Vediamo nella parte alta della pagina, perché c'è una notizia importante che riguarda Pescara, perché Massimiliano Serpi è stato nominato nuovo procuratore della Repubblica, arriva da Bologna. E poi a Pescara, tempo scaduto, stop dei forestali alle potature degli alberi. Infine si parla di calcio, di Serie A, si parla del Pescara. In questo caso parla l'attaccante francese Jean-Christophe Bebec, che dice voglio un gol decisivo e prenota l'acuto in vista della gara di domani, ricordiamo l'anticipo delle 15 al Castellani di Empoli per i Biancazzurri contro la formazione toscana. E noi più tardi vi faremo ascoltare proprio l'intervista che ha rilasciato ieri sera l'attaccante Biancazzurro ai nostri microfoni. Vediamo anche la prima pagina del quotidiano La Città, ospedale unico al centro iperbarico. Il sindaco Brucchi lancia una sua proposta alternativa a Piane di Sant'Atto, purché, dice Brucchi, sia a Teramo. Lasciamo allora le prime pagine dei quotidiani regionali oggi in edicola. Prima di andare a vedere, come sempre, le prime pagine dei quotidiani nazionali, dopo aver visto quelli della nostra regione in edicola oggi, possiamo andare sul sito del Corriere della Sera e poi di Repubblica. Eccolo qui inquadrato prontamente, perché questa notte, questa è una notizia di pochissime ore fa, che ovviamente non possiamo leggere sui giornali, perché ovviamente i giornali avevano già chiuso, in Siria c'è stato un attacco americano con 59 missili, Trump colpita la base del raid chimico. Ricorderete due giorni fa c'era stato questo attacco in Siria, erano morte diverse persone, anche per l'utilizzo di armi chimiche, fra cui diversi bambini e gli americani, che evidentemente ritengono il regime di Damasco colpevole di questo utilizzo di armi chimiche, questa notte hanno colpito con 59 missili una base siriana. Vediamo anche, per quanto riguarda questa notizia repubblica, ecco qui, andiamo leggermente in basso per inquadrare meglio il titolo, americani attaccano 59 missili colpiti a base dei raid chimici Trump-Assad, e qui il Presidente degli Stati Uniti lo dice senza mezzi termini, ha ignorato l'ONU, il mondo si unisca a noi. Poi c'è anche un titolo che riguarda la TV di Stato siriana, che dice aggressione americana, sono state segnalate vittime. Dunque, notizia di questa notte, attacco americano in Siria con il lancio di 59 missili che hanno colpito la base siriana, secondo gli Stati Uniti, dei raid chimici. Lasciamo dunque i due siti del Corriere della Sera e di Repubblica per questa notizia che, come detto, non troviamo sui giornali, tutto questo è accaduto questa notte. Invece torniamo ai quotidiani, in questo caso cartacei, per andare a vedere le prime pagine dei giornali nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, la frenata del PD, Renzi, crisi, no, noi con il governo. E dunque parla l'ex premier, dopo che erano soffiati, soprattutto nella giornata di ieri e l'altro ieri, dei venti di crisi per quanto riguarda il governo Gentiloni. E poi vedete, Siria, i piani militari di Trump, la foto ritrae il Presidente degli Stati Uniti con il primo ministro cinese, Siria, i piani militari di Trump e nella notte, questa notte, la notte scorsa, c'è stato l'attacco americano in Siria. Siamo a Repubblica, vedete terribile ciò che ha fatto Assad, Trump pronto all'azione militare che c'è stata questa notte, lo abbiamo visto proprio dal sito di Repubblica, anche dal sito del Corriere della Sera. Poi in alto si parla del caso Reggeni, della morte di questo studente italiano, di questo ricercatore in Egitto, il muro di sabbia che protegge gli assassini di Reggeni. E poi il messaggero Trump prepara l'attacco in Siria, che c'è stato, lo ripetiamo, la notte scorsa. Poi a centropagina, pensioni anticipate, stretta sulle uscite, incertezza sui tempi. E poi il fatto quotidiano, che invece con il titolo principale parla del ministro Madia, la Madia spara l'ultima bugia, l'Ateneo indaga sui suoi plagi, scrive il fatto quotidiano. E poi Trump scarica Putin in alto a parole e minaccia guerra contro Assad con il lancio di missili che poi c'è stato. Anche sulla stampa ritroviamo questo titolo che è su tutti i giornali. Trump sulla Siria, siamo pronti all'azione militare. In Equitalia siamo al giornale, 21 milioni di ostaggi del fisco, Marenzi e Alfano si occupano di poltrone. E poi Libero, gli asini del fisco, buoni a nulla ma capaci di tutto. Questo è il titolo di Libero. E poi un titolo che parla invece di sport. Chi tocca i guain muore soffocato dal gol. La vendetta del campione juventino perseguitato a Napoli. Avvenire, l'Italia diseguale, crescono le differenze nell'80% delle province. Oxfam dice che le banche fanno profitti in paradiso. E poi anche su Avvenire ritroviamo la notizia di Trump, dell'opzione militare che è stata portata a termine questa notte. Trump dichiara guerra alla Siria. Abbiamo visto cosa è successo poche ore fa. E poi il manifesto invece parla con questo titolo e questa foto di quanto accaduto a Genova in occasione del G8. Ricorderete questo titolo, vedete, stortura. Perché 16 anni dopo il G8 di Genova, l'Italia ammette davanti alla Corte Europea dei diritti umani l'uso della tortura. Ma per la legge nessun impegno reale. Il governo patteggia il risarcimento di sei vittime di Bolsaneto che hanno accettato la risoluzione amichevole. Siamo al mattino, Siria, Trump studia l'attacco. E poi a centro pagina, Renzi, basta giochetti. No alla crisi, gazzetta del mezzogiorno. Renzi, ma che crisi, gentili con gentiloni. E poi Ulivi dal Tar, stop alla TAP in Puglia, che tante polemiche sta creando. E poi l'ONU sta a guardare. Si parla dell'attacco in Siria. Ne abbiamo parlato anche noi poco fa con il lancio di missili americani questa notte. La verità. Per non pagare le tasse, i diputati siciliani hanno chiuso l'agenzia che gliele chiedeva, e questo è il titolo della verità, l'ultimo giornale che noi abbiamo analizzato questa mattina nel corso della nostra consueta rassegna stampa nazionale che possiamo chiudere qui. Abbiamo visto anche dai siti di Repubblica del Corriere della Sera dell'attacco di questa notte degli Stati Uniti, dell'America a Siria con il lancio di 59 missili che hanno colpito una base siriana. Dunque possiamo chiudere la rassegna stampa nazionale e tra qualche istante torneremo a parlare delle vicende di casa nostra, torneremo sui giornali abruzzesi, tra poco vedremo tra l'altro il servizio sulla visita ieri a Sulmona del Presidente della Repubblica e ripartiamo proprio dal centro per andare a vedere come il centro commenta questa visita del Presidente della Repubblica in Abruzzo. Storica visita, Mattarella dà fiducia a Sulmona e all'Abruzzo, celebrazioni per il poeta Ovidio, incontro con i familiari di Fabrizia Di Lorenzo, la ragazza sulmonese, morta alcuni mesi fa a Berlino in un attentato. E poi Ovidio e la cultura, un ponte aperto sul futuro, lo dice il Presidente della Repubblica, lo ha detto ieri il Presidente della Repubblica, nessun discorso. E poi in basso un grazie alla Brigata Maiella e Cirilli, scherza con i corazzieri. Andiamo ancora avanti, Siamo alla notizia che riguarda il ricordo, la fiaccolata che c'è stata all'Aquila ieri per commemorare le vittime del terremoto del 2009. Ma noi prima di parlare di questo, allora visto che abbiamo visto le pagine del centro sulla visita del Presidente della Repubblica, Mattarella a Sulmona, possiamo andare a vedere il servizio che abbiamo realizzato ieri nella città Peligna. Si è conclusa poco prima di mezzogiorno la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella a Sulmona. Mattarella nel suo discorso all'interno del Teatro Caniglia che si trova alle nostre spalle, ha ricordato l'importanza di Ovidio, ma ha ricordato anche e soprattutto Fabrizia Di Lorenzo, la ragazza sulmonese morta nell'attentato di Berlino e ha ricordato le vittime del terremoto dell'Aquila. Ha parlato anche il Presidente delle sofferenze dell'Abruzzo nelle ultime scosse di terremoto dello scorso inverno e della valanga di Rigopiano. Andiamo ad ascoltare le parole del Presidente della Repubblica e all'uscita del Teatro Caniglia del Governatore della Regione, Luciano D'Alfonso. È una giornata importante questa perché ricordiamo la figura in cui Sulmona si ritrova, ma in cui si ritrova l'intera cultura, non soltanto nel nostro Paese. Non è certamente un caso se Dante colloca Ovidio al vertice dell'arte poetica classica, insieme a Virgilio, a Omero, a Orazio e a Lucano. È una figura che richiama la ricchezza di questa regione, la ricchezza di questa città. Non è una giornata questa di evasione alla realtà di oggi. Al contrario, il pensiero va, come poc'anzi è stato ben ricordato, al terremoto dell'Aquila, alle sue vittime, alle sue distruzioni, all'opera intensa di ricostruzione in corso. Va al terremoto, anzi ai terremoti, che negli ultimi mesi hanno colpito il centro Italia, questa regione. L'Abruzzo è stato colpito da queste tre serie di gravi scossi sismiche, da un maltempo non visto inusuale, mai visto da molti, molti decenni, che si è espresso in maniera emotiva con la tragedia di Copiano, con la tragedia dell'elicottero dei soccorritori generosamente impegnati in un pressoccorso appunto caduto su queste montagne. Sono tutti elementi che riconducono la realtà di oggi agli impegni che abbiamo, così come il pensiero va a Fabrizia Di Lorenzo, ai suoi familiari. Ma questo ci richiama, il pensiero delle difficoltà, dei fronti che dobbiamo affrontare, richiama in maniera ancor più vigorosa all'importanza della cultura, senza la quale non vi è la capacità di affrontare problemi, fronti, difficoltà, il nostro futuro. Sul Mona, mi patria est, non è soltanto la composizione di parole in melodia, ma descrive come qui c'è la patria che evoca il suolo sotto il quale sono sepolti i nostri avi. Sul Mona evoca la bellezza delle nostre montagne, la profondità della nostra storia e anche il diritto alle nostre ambizioni. Ovidio ci ha consegnato la capacità e la cultura di concepire il cambiamento, la metaforfosi, l'evoluzione, ciò che si mette in cammino e che va ricompreso. Accogliere il Presidente, che ha voluto essere presente alla chiusura dei lavori del Convenio Internazionale di Studi Ovidiani, è stato un riconoscimento di assoluto valore per Sul Mona, per il nostro lavoro, per Ovidio, che è un gigante, un monumento della poesia, non solo di Sul Mona naturalmente, ma a livello regionale, nazionale e mondiale. Abbiamo ascoltato, l'avete visto, anche il Sindaco di Sul Mona, che ha fatto gli onori di casa ieri, ovviamente, nella sua città, Anna Maria Casini. Terremoto 6 aprile 2009, stavamo parlando della cerimonia della fiaccolata, che c'è stata all'Aquila l'altra notte, strana giornata tra lutto e voglia di normalità. Più avanti vedremo un servizio, anche sulla fiaccolata dell'Aquila. Poi andiamo avanti, caos maggioranza Renzi, Noa Giochini, sostegno al Governo, abbiamo visto anche dei titoli dei quotidiani nazionali, siamo le pagine della cronaca regionale, sempre dal centro, legge Madia contestata, abolizione della forestale, ci sono 200 ricorsi al Tar. In 3.000 in Italia, contro l'accorpamento con i carabinieri, perdita dei diritti civili, sindacali e del giudizio militare, questi i motivi che hanno portato al ricorso al Tar. E poi, ente idrico, Ersi, polemica sul nuovo statuto, Pettinari, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, dice, il nuovo direttore generale costerà di più d'Alfonso, solo modifiche funzionali, dice il Presidente della Regione. In basso, Movimento 5 Stelle, dice Abruzzo Maglianera, per il numero di leggi in 43 anni. E poi, sostegno invece, alle attività commerciali, un milione per i negozi nei comuni montani. Proseguiamo, siamo alle pagine della cronaca di Pescara, guerra sui divieti, marinerie in allarme, lasciateci Pescara, e la proposta di chiudere un'area della Fossa di Pumon, preoccupa gli armatori. Questa mattina, un incontro in Regione, per analizzare ipotesi alternative. In basso, balneabilità ok dell'Arta, per mare e fiume, dunque dati positivi, con l'avvicinarsi della stagione estiva, per le acque del mare di Pescara. E poi andiamo avanti, l'ACA promuove un piano da 11 milioni anti-inquinamento. Il Tribunale del Riesame, per la prima volta di sequestra, due vasche IMOF, per il trattamento dei reflui a Cepagatti. Andiamo ancora avanti, la tragedia di Rigopiano, rispetto e verità, basta lucrare sul nostro dolore, il Comitato Parenti delle Vittime, contesta l'ultima iniziativa delle vacanze gratis, ai soccorritori. Vogliamo solo risposte. Proseguiamo, Centri Sociali, l'assessore alle politiche sociali del Comune di Pescara, Allegrino, prepara la nuova gestione. E poi in basso, Perlini e quel debutto a Pescara, l'attore suicida due giorni fa a Roma, protagonista nel 1974, con il gota dell'avanguardia teatrale. E poi sabato, nel carcere di San Donato, ci sarà il Festival della Melodia, con un ricordo, anche dell'esponente radicale abruzzese, Marco Pannella. In palestra con cortisone e diuretici, denunciato, siamo alla cronaca, sempre a Pescara, i carabinieri del NAS scoprono in casa di un giovane, decine di farmaci dopanti, controlli, nelle sale fitness di Pescara, in Montesilvano, chiusa una cucina abusiva. E poi, cambio in procura, più vicino a Pescara, primo sì del CSM, alla nomina di Serpi, Massimiliano Serpi, che dunque dovrebbe essere il nuovo procuratore capo di Pescara. Viede lo shopping e del divertimento, pronti 50 mila euro. Gian Pietro, consigliere comunale con delega al commercio, dice, il centro commerciale naturale diventa realtà. In un mese concorderemo una serie di azioni di rilancio. Ieri vi abbiamo proposto, nel corso del nostro telegiornale, in intervista, anche con l'assessore al commercio del comune di Pescara, Giacomo Cusi. Siamo alla pagina di Montesilvano, dal centro, Polizia Municipale Solidarietà e Vigili Urbani per Noemi. Aiutiamo i bimbi malati. E poi, nel progetto di accoglienza, Emporio Solidale Mensa, De Martini, si difende le politiche sociali, il vice sindaco di Montesilvano, è polemica dopo le critiche della lista Montesilvano 2019, ma anche Orsini replica, è il responsabile da parte di alcuni consiglieri, creare allarmismo sullo sbarco dei profughi. In basso, maggioranza appesa ad un filo, dunque restiamo in argomento, si decide il 19, il consiglio sul bilancio diventa il banco di prova per il sindaco contestato su immigrati e piano spiaggia. Vedete, nella foto in basso, da una parte il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, dall'altra il consigliere della lista Montesilvano 2019, Anthony Aliano, molto critico con la giunta Maragno. Filo via sulla strada Parco, e ora via ai pali e impianti, riesplode a Montesilvano la polemica dopo la presa di posizione della Corte dei Conti. Sorgentone diceva riprogettato il percorso, Ferrante, troppe barriere, dice per i disabili. E poi, Montesilvano, articolo 1, si presenta con Tortora e Ditilio, in basso a Spoltore, a scuola con la robotica, il dono di Pescara Abruzzo, ancora a Montesilvano, parte oggi infatti la fiera dei tatuaggi, si parla anche di primo soccorso. In basso, teatro a Pianella, due giorni con l'Accademia Arotron, e poi turismo, tornando a Montesilvano, un box per il rilancio delle aree protette. Siamo all'area metropolitana, ancora di Pescara, Francavilla al mare, buoni spesa per Pasqua, domande fino a martedì. E sempre a Francavilla, al Villa Maria, in scena, la favola di Pinocchio. Siamo alla pagina dell'area vestina e dell'Alta Val Pescara, partiamo dall'argomento sanità e da popoli, sanità, ora assunzioni e investimenti, il parlamentare Castricone sollecita impegni stringenti all'assessore Paolucci per salvare gli ospedali di popoli e penne. E oggi incontro in regione il movimento avanti tutta da D'Alfonso, e poi penne via i lavori antifrana sulla statale, Ottantulo in basso a Manoppello, comune senza bilancio, attività ferma a San Valentino, in Abruzzo Citeriore, costituito il gruppo della protezione civile. Pagina di Chieti, del centro tragedia Torrino di Sangro, muore a 43 anni, correndo sulla riviera, stroncato da un malore Ivan Colangelo di Trasacco, insegnante dell'alberghiero ed ex fisioterapista del Celano Calcio. E poi a San Salvo, Carla, freddo fatale, la verità dall'autopsia, il giallo di San Salvo, oggi l'esame per chiarire le cause e l'ora del decesso della mamma, 39enne. E poi a Vasto, in basso, picchia la moglie davanti ai figli, arrestato, uno dei bimbi chiede aiuto al 113, mentre il padre violento insulta e minaccia la mamma. L'Aquila, pagina dell'Aquila e provincia, in questo caso però siamo nella Marsica d'Avezzano, rapina e violenza, pistola alla testa, zitto ti ammazzo, testimonianza e shock, così avvenivano gli assalti, i commercianti, ma i due arrestati, Felughi e Morelli, negano incidente in cantiere, grave un operaio, a San Demetrio Nevestini, un pezzo di metallo colpito un uomo alla testa, ma il casco ne ha attutito, fortunatamente gli effetti. E poi in basso, serve il permesso per accendere i focaracci, Ciavezzano, Pietraquaria e burocrazia, il Comune chiede la dichiarazione di inizio attività, ovvero la DIA. E siamo a Teramo, il dopo emergenza, maltempo, risarcimenti, ma non per tutti, l'ordinanza del Governo lascia infatti molti dubbi sugli indennizi agli agricoltori, il Sindaco dice, aspetto da chiarire, il resto va bene. E poi la cronaca, accusato uno spacciatore, mamma e figlia, confermano le violenze, e poi pronti a riempire il lago di Campotosto, l'Enel chiede l'autorizzazione al Regione Ministero, D'Alfonso dice, possono cominciare, poi a Cellino Attanasio, fucile nell'auto, usata per il furto, in basso, interessi ultralegali, condannata, l'ex banca Tercas. Siamo arrivati alle pagine della Cultura e poi dello Sport, prima di andare a vedere insieme il Messaggero e poi il quotidiano la città, possiamo fermarci per qualche attimo, vedere le previsioni del tempo, poi come sempre torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Siamo di nuovo in studio per la seconda parte di Mattino 6, abbiamo esaurito la lettura delle pagine del centro, siamo all'inserto Abruzzo del Messaggero, partiamo dall'Aquila, quella notte del 6 aprile, alle 3.32, si parla della manifestazione che c'è stata nel capologo di Regione per ricordare quella tragedia, per non dimenticare quella tragedia, scuole riprese economiche, i nodi ancora da sciogliere, la pezzopane sulla sicurezza delle classi, serve l'appalto integrato per accelerare, e poi grandi rischi, la verità del giudice Billi, in basso a Palazzo Ardinghelli, la sede Maxi entro l'anno, e poi il guru della crisi, Catrina, dice ispirarsi a New Orleans, ma noi andiamo a vedere nel prossimo servizio proprio come l'Aquila ha vissuto la notte del 6 aprile con la fiaccolata delle 3.32. Circa 6.000 persone hanno partecipato alla fiaccolata per l'ottava ricorrenza del terremoto del 6 aprile del 2009 che ha distrutto l'Aquila. Il corteo è arrivato in piazza Duomo intorno alla mezzanotte e mezza e poco dopo è iniziata la lettura dei nomi delle 309 vittime anticipata dalla frase E loro non ci sono più. In prima fila gli striscioni dei familiari dei defunti, dei genitori dei ragazzi morti alla casa dello studente e di tutti coloro che hanno subito i sismi più recenti del centro Italia. In piazza c'erano anche i gonfaloni della regione Abruzzo, della provincia dell'Aquila e delle città di L'Aquila e di Rieti. Negli ultimi tre anni abbiamo messo 13 miliardi di euro sulla ricostruzione dell'Aquila. Oggi il 77% delle famiglie che era dovuta uscire di casa è rientrata in casa propria. La ricostruzione privata quindi è a buon punto. Prevediamo di completarla nel centro storico entro il 2020, nella città entro il 2022. La ricostruzione pubblica è al 50%, qui bisogna accelerare. Diciamo che è ancora un cantiere aperto anche quello legislativo perché le ricostruzioni vanno aggiornate man mano che si presentano i problemi e man mano che le cose vanno avanti. I risultati del 2016 comunque sono positivi. Qualche partecipante ha ascoltato la lettura dei nomi in ginocchio sul selciato della piazza e alla fine sono stati ricordati i morti del sisma del centro Italia, della terra dei fuochi, le vittime dell'amianto e quelle di San Giuliano di Puglia. A scandire il tutto i 309 rintocchi della campana della chiesa delle anime sante è tornata a suonare da pochi mesi nell'ambito dei lavori di ricostruzione confinanziati dalla Francia e ormai quasi terminati. All'una la fiaccolata è terminata ma molti hanno scelto di assistere alla messa celebrata dall'arcivescovo metropolita Monsignor Giuseppe Petrocchi all'interno della chiesa di San Giuseppe Artigiano. Alla funzione tra gli altri hanno preso parte anche il prefetto Giuseppe Linardi accompagnato dai vertici delle forze dell'ordine. A conclusione della messa c'è stata la veglia finale fino alle 3.32 nella cappella della memoria accanto alla chiesa delle anime sante. Noi parliamo ancora di questa dolorosa di questa tragica ricorrenza andando sul Corriere della Sera per vedere la storia la storia di cui parla proprio il quotidiano milanese ecco qui inquadrata nell'articolo nel servizio curato dal nostro collega abruzzese Nicola Catenaro Giulia e il tè con la mamma nella casa risorta dal sisma l'aquila il rito ripetuto da 8 anni e il nostro inno alla vita vedete madre e figlia rinnovare questo rito con il tè proprio un inno alla vita dopo la tragedia del 6 aprile del 2009 all'aquila questa storia è raccontata sul Corriere della Sera da Nicola Catenaro possiamo tornare alle pagine del messaggero per vedere anche la pagina relativa alla visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri a Sulmona prima vi avevamo proposto il servizio dall'aquila a Rigopiano l'abbraccio di Mattarella da Sulmona il Capo dello Stato ricorda il 6 aprile e le sciagure recenti nel regione vedete le foto a corredo di questo avvenimento e poi in basso tra i selfie e i cori dei bambini il grazie del Presidente Mattarella ai partigiani della Brigata Maiella andiamo ancora avanti siamo alla cronaca di Pescara del Messaggero procura il Capo Massimiliano Serpi l'attuale aggiunto di Bologna designato ieri all'unanimità al plenum del CSM dalla Commissione incarichi direttivi e poi lotta all'illegalità nell'area di risulta il Sindaco di Pescara ha disposto provvedimenti in base al decreto sicurezza primi sequestri e multe dei vigili agli emulanti in centro e sulla riviera poi in basso barriere architettoniche mai eliminate dalla filovia Tacca Ferrante l'esponente che rappresenta l'associazione delle carrozzine determinate e poi il NAS dei Carabinieri in due palestre nel Pescarese clienti trovati con sostanze dopanti e poi potature forestali fermano i lavori l'attività avrebbe dovuto essere conclusa entro fine marzo slitto agli interventi su via Regina Elena e su Corso Vittorio il comune costretto ad incassare un altro stop sul verde il dirigente dice riprenderemo in estate seguendo le norme e poi i nodi urbanistici della città di Pescara l'assessore civitarese illustra il polo della cultura e poi il movimento 5 stelle contro la burocrazia eliminare le leggi inutili poi green box delle aree protette prodotti tipici a Porto Allegro mare tutto balneabile ora l'obiettivo è cancellare i divieti il forum H2 ribadisce un avvio di stagione con tuffi vietati ma il sindaco Alessandrini replica dati eccellenti avanti così e poi trasporti e sicurezza busse pericolosi di notte la piaga dell'evasione e poi Montesilvano tornano i trabocchi la novità prevista nel piano spiaggia e poi l'assessore Cuzzi ci riprova notte bianca il 22 luglio centro commerciale naturale sostenuto con 50.000 euro e un piano marketing per reggere il passo degli ipermercati e poi in basso ematologia mobili per i baby pazienti della Oddo Onlus donati nei giorni scorsi dall'associazione che si dedica spesso ma spessissimo ad azioni di solidarietà anche grazie alle maglie dei giocatori di Serie A messe in vendita su ebay e poi Noemi un aiuto dei vigili di Montesilvano siamo all'Aquila casetta in legno post sisma una sanatoria con il nuovo piano regolatore e poi il Sant'Antonio protetto dalla base antiterremoto parliamo dell'arte ferita proprio dal sisma e poi primarie Partito Socialista Italiano e Abruzzo Civico mollano De Santis si tratta di una candidatura personale e poi in basso operai schiavi tre dei quattro arrestati scelgono il silenzio e poi accordo Fenix i vertici a processo in tre sono accusati di aver fatto entrare rifiuti pericolosi in assenza di titolo abilitativo proseguiamo pagina di Avezzano sul Mona arrivano due nuovi giudici uno in procura ad Avezzano vanno a sostituire i magistrati Barbieri e Venturini che sono stati recentemente trasferiti in altre sedi poi a Scanno l'Oscar di Vitto ricevuto in municipio e a Celano dimesso l'anziano 85enne che era stato picchiato a sangue nei giorni scorsi a Roccaraso gestione rifiuti per il tar regolare l'affidamento e poi ad Avezzano soldi alla Marsica grazie a Gerosolimo interviene laboratorio Bruzzo Giovani che è vicino al candidato sindaco De Angelis e poi vediamo altri titoli che arrivano dalla Marsica a Avezzano alla Collodi inaugurata la biblioteca di quartiere e poi a Celano in carico ad un parente Bracco critica pagina di Chieti è tornata all'emergenza eroina la fumano anche a 16 anni la direttrice del CERD dice tra i giovanissimi è di nuovo la prima donna delle droghe e poi Lucia Mazzoccone alla direzione generale parliamo dell'Università di Chieti Pescara il CDA dell'Ateneo ha invitato il decano a rispettare la nomination in tempi rapidi e poi di primio le accuse sui social certa burocrazia è inadeguata e poi invece oggi al centro d'Abruzzo arriva Lele il trionfatore di Sanremo in basso Ops e Alesa scatta l'allarme occupazione preoccupazione dei sindacati diventano a rischio mille posti di lavoro chiesto l'intervento della regione furti d'auto c'è quella dell'assessore siamo a Lanciano per la terza notte consecutiva ladri specializzati in azione tra le vittime Davide Caporale responsabile dell'ambiente e poi a Tortona studenti da Atene nell'Erasmus tutto nautico e sempre a Tortona strappo nel PD Coletti si candida con due liste civiche vasto minaccia di morte davanti ai quattro figli l'ex marito in manette il commissario Capaldo dice maltrattamenti da dieci anni e poi a Torrino di Sangro anche sul messaggero ritroviamo la tragedia di questo sportivo che muore a 43 anni mentre fa jogging e poi vasto deposito rifiuti nella riserva naturale siamo alla pagina di Teramo recupero dell'ex rettorato ok alla variante urbanistica lunedì il consiglio comunale voterà il nuovo strumento per la realizzazione l'assessore Misticoni dice progetto chiave per la rigenerazione urbana della città e poi ospedale unico Brucchi dice a piane sant'atto così il primo cittadino dopo la paura del sisma aumenta però anche la chirurgia estetica e dopo il decreto ufficio terremoto tempi ancora lunghi in basso il glorioso ufficio della polizia postale sta per chiudere i tagli del decreto Madia non risparmiano la struttura destino incerto per i sei agenti e poi santo suosso una morte senza colpevole il giovane studente per i nel terremoto dell'Aquila del 2009 da allora una lunga serie di processi ma nessun risarcimento a Giulianova Porto Insabbiato gravi disagi per le lampare e sempre a Giulianova Fratelli d'Italia a Enne aprono le danze della campagna elettorale Martinsicuro tenta la fuga e malmena carabiniere finisce in manette ad Alba Adriatica la ciapanna in pole position per la presidenza del Consiglio Comunale e a Tortoreto multe non pagate commissario all'attacco infine Roseto città solidale nel racconto dell'Angelozzi siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo ancora andare a vedere come sempre prima di parlare di sport invece le pagine che riguardano il quotidiano la città abbiamo visto in apertura dell'appuntamento di oggi con Mattino 6 la prima pagina del quotidiano la città andiamo a vedere le pagine interne partiamo dall'Abruzzo il pensiero di Mattarella va ai terremotati si parla della visita del Presidente della Repubblica a Sulmona ieri mattina per il bimilenario del poeta latino Ovidio poi commercio un milione di euro per i nuovi negozi nei comuni della montagna in basso ambiente il Ministero agire il divieto delle 12 miglia per le trivellazioni allarme lanciato dalle associazioni ambientaliste dopo che il decreto consente di ampliare il programma di sviluppo ospedale unico Brucchi vuole l'area del centro iperbarico il sindaco di Teramo avanza la sua proposta all'assessore Paolucci per la localizzazione del nuovo nosocomeo e in basso parla l'ex assessore regionale Vinturoni critico con Paolucci sulla strategia di riordino dice l'ospedale unico è una pura follia fate quello Giuliese Paolucci la sua idea ce l'ha già attendo l'esito dice l'assessore alla sanità delle verifiche mossa suicida chiudere la polizia postale la madia inserisce la sezione di Teramo tra le più attive d'Europa nella lista però delle sedi da dismettere la rotatoria di Villa Mosca è da correggere dopo gli incidenti dei mesi scorsi si scopre che il comune ha chiesto una variante per eliminare i pericoli e poi sterilizzazione dei randaggi all'istituto zooprofilattico tre a processo per peculato e poi le opposizioni cambiando argomento prima del consiglio fanno le pucci al progetto della casa dello studente il comitato siamo sempre a Teramo degli sfollati chiede meno burocrazia tempi lunghi per il contributo perché il comune di Teramo non fa come l'Aquila e le Marche questa la domanda del comitato e poi Valle Castellana esposito tentenna ma non esclude proseguiamo siamo alla pagina della provincia parliamo di balneazione con i divieti che scattano dal primo maggio leggero miglioramento della situazione nel Teramano ma tordino e vibrata restano zone of limits in basso il rombo dei quad torna a riecheggiare lungo le strade di Campli domenica l'iniziativa promossa in collaborazione con l'amministrazione comunale ieri vi abbiamo proposto nel nostro telegiornale il servizio su questa manifestazione e siamo a Corropoli lo spacciatore ci ha violentate per anni sesso in cambio di eroina mamma e figlia raccontano al giudice la schiavitù nel 65 anni è finito in carcere con l'accusa di cessione di droga e violenza sessuale e poi a Martinsicuro si parla di elezioni Massimo Vagnoni domani presenta la sua candidatura ufficiale a sindaco a Martinsicuro ancora cerca di fuggire dal controllo e poi aggredisce i carabinieri Nereto la mancata approvazione del PF è un pastrocchio parla di Felice che dice se la gestione dei rifiuti costerà di più sarà il comune a pagare la differenza pagina di Giulia Nova l'opposizione snobbe il nuovo incontro del sindaco sull'ospedale mentre parlando di politica il PD si rafforza con gli ex del centrodestra Giulia Nova fa discutere l'ingresso di Francioni e la vicinanza della Ciafardoni e poi in basso Vasanella lascia il porto e va l'attacco del sindaco gli amministratori giuliesi dicono riescono a produrre solamente opere inchiompiute e poi ancora Giulia Nova i lavori sul ponte ciclopedonale al via dopo Pasqua siamo alla pagina di Roseto di Pinetro Atri e Silvi Catarra pronto a tornare in pista per le prossime elezioni comunali siamo a Notaresco serie di incontri anche con esponenti del PD per l'ex sindaco di Notaresco e poi Roseto l'opposizione presenta la ricetta per impedire l'aumento della Tari è sempre a Roseto è stato presentato il premio di giornalismo Luigi Braccili siamo a Silvi niente barriere ma nuovi casotti sulle spiagge intanto una draga tenta di risolvere il problema dell'erosione con la modifica dei pennelli esistenti a Pineto genitori e insegnanti visitano il servizio di refezione scolastica in basso ad Atri gli studenti dello Zoli lavoreranno per il consorzio Piomba Fino andiamo avanti per arrivare alla pagina dello sport che riguarda come sempre sul quotidiano la città il Teramo riecco Barbuti la punta anti Ancona l'attaccante torna al gol nello stesso posto dove aveva colpito a novembre mi porta fortuna ora mister Ugolotti ha una risorsa in più per domenica prossima quando il Teramo giocherà in casa con la Reggiana e possiamo tornare al centro e poi al messaggero per andare a vedere come sempre le pagine di sport che riguardano le nostre formazioni le varie discipline sportive che più ci interessano partiamo ovviamente dalla Pescara che come vi dicevo anche leggendo i titoli della prima pagina del centro del messaggero tornerà in campo domani in anticipo nell'usuale in orario del sabato delle 15 per affrontare allo stadio Castellani Lempoli una gara da dentro o fuori per la formazione di Zdenek Zeman ecco la doppia pagina del centro sul Pescara Bebek dice una finale l'attaccante dice ancora con una vittoria si riaprirebbe la corsa verso la salvezza ma noi lasciamo il microfono proprio all'attaccante parigino per ascoltare le sue impressioni alla vigilia della gara in terra toscana Jean-Christophe Bebek allora tranquillizziamo subito i tifosi qualche problema nell'allenamento di oggi però nessun problema sarei disponibile per la gara con Lempoli si sarà disponibile solo un po' duro non ho stirato non ho fastidio ma un po' la precarazione aspetta lì tutto bene con il Milan si è rivisto un bel Pescara avete giocato un'ottima gara contro una squadra molto forte Bebek sta tornando ad esprimersi come era accaduto nelle prime giornate di campionato sei soddisfatto del tuo rendimento si per il rendimento ho fatto bene bene partita di tutta la squadra mi senti bene piano piano perché non è lungo che non giocavo in totale ma mi senti bene spero ancora un cammerio contro Lempoli come ti stai trovando con questo allenatore Zeman parla poco però un maestro di calcio non lo conoscevi probabilmente cosa ne pensi si si conosce un po' ma si parla all'allenamento parla molto con un altro mister Giuseppe ma si un bravo mister non è alle partite si parla un po' perché la tattica fare l'allenamento con tutta la squadra ma mi pare poco si parliamo ancora del Pescara e della gara di Empoli sempre dalle pagine del centro con tagliavento tre vittorie altrettante sconfitte la gara di Empoli sarà diretta dal fischietto Ternano che nella sua carriera ha incrociato sei volte i biancazzurri con tre vittorie e altrettante sconfitte poi al Castellani ci saranno circa 150 tifosi pescaresi alle 19 di e questa sera ci sarà lo stop alla vendita dei tagliandi e poi per quanto riguarda il calcio giovanile alla primavera domani sfida con il Chievo in trasferta in Casa Empoli ballottaggio tra Diossè e Buckel Azzurri si parla della formazione toscana reduce da 7 K.O. consecutivi e poi la storia la storia di un ex biancazzurro di alcuni anni fa parliamo di Danilo Ronzani che a 57 anni è di nuovo in campo dice mi diverto ancora e siamo la pagina dopo quella di serie A con la Juventus che adesso pensa ovviamente alla gara con il Barcellona siamo la pagina che riguarda invece la Lega Pro e la serie D Teramo marcia da salvezza diretta l'attaccante Barbuti decisivo mercoledì sera l'Ancona dice mi porta fortuna le difficoltà hanno unito la squadra e poi la serie D perché domani quella di domani sarà una giornata di anticipi con l'Avezzano che giocherà all'Anusei con l'Aquila che ospiterà in casa il Muravera entrambe le gare inizieranno alle 15 andiamo ancora avanti c'è questa pagina relativa alla presentazione del Tornino delle Regioni con la rappresentativa abruzzese poi nella pagina seguente si parla di basket di serie A2 maschile con Cimo Rosi presidente del Rosseto che dice riscatto per i playoff infine pallacanestro l'Abruzzo capitale del basket giovanile da martedì il torneo delle Regioni a Roseto e in altre quattro città della nostra regione e siamo al messaggero anche in questo caso per andare a vedere le pagine che riguardano lo sport prima di salutarci dunque domani oltre abbiamo visto dal centro oltre a Pescara Empoli perdon Empoli-Pescara visto che si giocherà al Castellani alle 15 ci saranno altre due gare di formazioni abruzzesi in questo caso parliamo di serie D con l'Avezzano che sarà di scena a Lanusei e con l'Aquila che cercherà di confermare il momento positivo nella sfida che si giocherà al Gran Sasso d'Italia con l'inizio sempre alle 15 contro il Muravera e domani nel corso della trasmissione diretta stadio condotta da Andrea Costantini ovviamente avremo dei collegamenti in diretta con Empoli per seguire Empoli-Pescara con l'Aquila per la sfida di Rosso-Blu con il Muravera e ovviamente anche con Lanusei per seguire la gara dell'Avezzano ma torniamo al Pescara voglio un gol importante Bebec prenota un acuto ad Empoli lo abbiamo appena ascoltato e poi Coulibaly una favola ma anche tanti ipocriti questo il corsivo l'opinione del messaggero poi Fornasier per noi sarà la partita della vita ha parlato ieri anche il difensore del Pescara che nelle ultime settimane è stato poco impiegato ma che ovviamente spera di trovare posto nelle restanti gare di questo campionato poi Lega Pro effetto golotti il Teramo sorride passata la paura della retrocessione diretta ora si punta ad evitare i play-out e poi Serie D vedete di spalla in alto si parla della vastese Marco Nato la vastese dice il portiere non merita le critiche scusate poi l'Aquila al Balonga partono le denunce Pupeschi contattato avvise il club che avverte la procura federale è stata sventata questo è stato sventato questo tentativo di Combine grazie proprio all'onestà dei giocatori dell'Aquila che hanno subito segnalato l'accaduto alla procura federale e poi in basso si parla di basket di Serie A2 parla il presidente della Proger Chieti di Cosmo che vota la fiducia alla sua squadra e dice Proger ci salveremo poi di fianco il rugby nell'anticipo con Roma in palio punti preziosi parliamo dell'Aquila Rugby la società chiama a raccolta i tifosi per la sfida di domani siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi di venerdì 7 aprile con Mattino 6 la nostra consueta rassegna stampa che come sempre tornerà domani puntuale alle 7 il prossimo appuntamento informativo della giornata e invece la prima edizione del nostro telegiornale TG6 che come sempre andrà in onda alle 14 io ringrazio Gianni D'Areo in regia ringrazio voi per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata grazie a tutti Grazie a tutti